In questi ultimi anni abbiamo percorso l'inesplorato, ci siamo rimessi in gioco e attanagliati sempre da tempo siamo diventati più attuisti con semplici gesti. Perché ognuno possa godere del proprio saper fare, ma anche perché dietro a ogni lavoro, ogni singola chiamata, c'è veramente tanto di noi. Nuovamente pronti e liberi nello spirito, Dix8RF Videoproduzione, lì dove un videomaker, emozione agli sguardi che sanno vogliare in movimento. www.kadadigida.it, insieme scaliamo l'IT con video e contenuti distribuiti sui social.